Il sindaco della città ha reso noto che il prossimo 3 agosto sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e si chiamerà Genova San Giorgio. L'annuncio dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova è arrivata sulla pagina Facebook del sindaco di Genova. L'annuncio. Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato il prossimo 3 agosto. La comunicazione ufficiale è avvenuta sulla pagina Facebook del sindaco di Genova ma anche durante una seduta del consiglio comunale. Come si legge su TECOM24, il sindaco ha affermato. È stato ufficializzato anche il nome. Il ponte si chiamerà Genova San Giorgio. Ha reso noto anche l'orario. L'inaugurazione avverrà alle 18 e 30. All'inaugurazione parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come sarà il ponte? Il nuovo ponte è composto da 20.000 tonnellate di acciaio che sono state lavorate da Fincantieri, proprio a Genova. Per il sindaco la Fincantieri ha fatto un ottimo lavoro. I vari pezzi sono stati messi insieme grazie ad impalcature realizzate da Salini Impregilo e con la collaborazione di Fagioli, azienda Emiliana. Un ponte modello per l'Italia, a cui hanno partecipato tante aziende italiane. Domenica scorsa sono iniziate le prove di carico e potrebbero terminare molto presto. Quando finiranno sarà il Ministero dei Trasporti, con il gestore dell'infrastruttura, a compiere le ultime verifiche e dare l'ok. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!